Il cordiale saluto della rivoluzione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Trafico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Quanto riguarda le autostrade in occasione del MotoGP, in corso domenica 29 maggio al Mugello, verrà predisposto sulla viabilità ordinaria un senso unico dalla stazione di Barberino fino all'uscita per Viale Matteotti, sia da Via del Lago, sia dalla nuova rampa di collegamento con l'Outlet. Di conseguenza sulla 1 sarà chiusa la stazione di Barberino, in entrata in entrambe le direzioni, dalle 6 alle 12 e comunque fino al termine della gara. Uno sguardo al trasporto pubblico locale domani, lunedì 30 maggio, i bus di Autolinea Toscana potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse a causa di uno sciopero aziendale di 24 ore. Sono previste fasce di garanzia del personale viaggiante e tutti i dettagli sui nostri canali social. Moversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!